ciao a tutti un caro saluto da milano oggi sto facendo questo video abbastanza importante abbastanza sentito il titolo del video è trasformiamo i problemi in opportunità sono rientrato ieri da napoli oggi mi trovo qui a milano e in questi due tre giorni davvero sono cambiate tantissime cose incredibile ma in tre giorni rientrando a milano ho trovato una situazione completamente diversa me ne ero già reso conto giù a napoli guardando un pochettino le notizie vi assicuro che ormai ci sono tantissimi negozi vuoti ci sono i supermercati che sono stati presi di assalto ovviamente stiamo parlando del problema del coronavirus non mi addentrerò né mi permetto di parlare dell'argomento in sé perché non ho nessuna competenza e nessun interesse a voler trattare questo argomento a me comunque assai per me assai complesso quello che voglio fare invece è un'altra cosa è cercare di prendere spure accolte né ad ischia non vengono accolte nei tribunali se ci sono degli avvocati che vengono da milano non vengono accolti in altri stati dove vengono messi in quarantena tutto questo che cosa sta causando da un punto di vista di business specialmente per le persone che sono qui del nord allora vi posso dire solo questo che oggi diciamo che su 60 persone nel nostro ufficio ne sono venute solo 10 e può sembrare davvero un problema tremendo ed incredibile tantissimi clienti hanno iniziato a spostare i loro appuntamenti c'è chi magari viene dalla lombardia al quale abbiamo chiesto noi magari di non venire o c'è magari qualcuno che viene fuori dalla lombardia che chiaramente preferisce non venire ebbene visto così potrebbe davvero sembrare un problema enorme ovviamente lo è ma quello che stiamo cercando di fare qui da almeno due tre giorni e di cercare di trasformare questo problema in una opportunità mettiamola così purtroppo non è governabile da parte nostra comunque l'effetto del coronavirus sulle persone e tanto meno sui clienti però a noi interessano diciamo un paio di cose in maniera abbastanza importante la prima è quella di cercare comunque di continuare ad aiutare i nostri clienti perché ovviamente con una broadcast che abbiamo lanciato questa mattina ci è piaciuto dire che il coronavirus avanza Equitalia l'agenzia delle entrate non arretra quindi diciamo che sono due problemi che vanno di vari passo ed è un nostro dovere cercare comunque di continuare a dare ai nostri clienti delle soluzioni perché già di per sé sta per crearsi un problema abbastanza importante da un punto di vista imprenditoriale per gli imprenditori perché chiaramente ci sono meno clienti dall'altro lato molto probabilmente l'aggressività da parte dell'agenzia delle entrate in discussione ed Equitalia ma non voglio entrare nella parte tecnica sarà importante mi voglio però spostare invece da un punto di vista di mindset perché quando ho iniziato a sentire tutto il cda qui in azienda diciamo che erano tutti molto molto preoccupati come stanno andando gli appuntamenti cosa dicono le persone io ho iniziato a ragionare in un altro modo ed è proprio quello che voglio cercare di trasmettere a te perché credo che sia la cosa principale cercare di trasformare il problema che è tale e quindi non possiamo eliminarlo in una opportunità non è semplice infatti l'ho messo anche nel testo ma è doveroso e ti voglio fare l'esempio perché proprio quello che mi piace sempre fare spiegarti quello che io faccio quello che noi facciamo non voglio andare di teoria voglio andare assolutamente da un punto di vista pratico negli ultimi due giorni abbiamo immediatamente ci siamo messi d'accordo con l'IT il responsabile dell'IT che con il suo team ha deciso comunque di creare una task force insieme al human resource quindi le persone che si devono dedicare e gestire tutta la parte dei dipendenti e dei collaboratori e abbiamo pensato possiamo oltre che cercare di tamponare e quindi di perdere da un punto di vista di di forza e di emotività le nostre energie solo per tamponare o a questo punto è meglio provare a fare qualcos'altro con i piedi per terra perché questo è quello che dobbiamo fare quasi approfittare di questo problema approfittare di questa situazione e guardare più avanti guardare magari a sei mesi ma magari a 12 mesi bene noi abbiamo fatto questo tipo di esercizio di quello che stiamo facendo in queste ore ci siamo messi in un team su telegram e abbiamo iniziato comunque ad organizzare e a rivedere tutta quella che è la nostra attività abbiamo deciso di trasformare il tutto il più possibile nel telelavoro anche perché la prima cosa a cui abbiamo pensato da venerdì quando le cose veramente sono iniziate a peggiorare non è stata quella di aspettare la scelta di qualcuno la regione piuttosto che lo stato a darci indicazioni abbiamo immaginato che chiaramente con noi collaborano delle mamme collaborano chiaramente delle persone che vivono fuori milano e che avrebbero ovviamente oggi lunedì questo pensiero l'abbiamo fatto venerdì ha avuto delle difficoltà ha avuto delle paure non vi nascondo ad esempio vi faccio vedere che da questa mattina comunque io mi sono attivato qui su milano ad andare in giro con la mascherina quando le persone ti vedono con la mascherina chiaramente non è una sensazione meravigliosa in questo momento magari non sono neanche le mascherine perfette ma sono un messaggio perché l'altra cosa collegata a quello che stavo dicendo è che dobbiamo essere responsabili dobbiamo essere responsabili per le persone che lavorano con noi responsabili per la nostra famiglia e responsabili per noi ecco che abbiamo detto perché non ragioniamo immediatamente da lunedì per cercare di lasciare già da lunedì mattina e tutto questo l'abbiamo pensato sabato e domenica lavorando senza sosta di lasciare il più possibile le persone a casa con il tele lavoro alcune già hanno iniziato ad utilizzare il tele lavoro questa mattina abbiamo fatto più o meno due ore di riunione con un team di cinque persone per iniziare a capire anche gli investimenti che dovevamo fare quindi da un punto di vista di computer da un punto di vista di software da un punto di vista comunque di macchinari che ci avrebbero permesso di riorganizzare tante cose per permettere agli altri di poter essere più sereni più tranquilli nel lavorare sono certo e spero che da qui a poco tutto questo cambierà potremo tornare alle nostre abitudini ma in questo momento dobbiamo essere piantati a terra avere forte senso di responsabilità e aggiungo una cosa dobbiamo trasformare questo momento critico in un'opportunità ne parlavo oggi con i miei soci ho detto guardiamo da qui a tre sei mesi e prendiamo questo mese da un punto di vista economico durissimo tremendo come agosto diciamo che ogni anno diciamo abbiamo un agosto e dobbiamo fare finta che ci troviamo in questo momento ad agosto che vuol dire che dobbiamo essere un po più calmi a non avere l'ansia chiaramente di prestazione economica sapendo che abbiamo fatto bene nei mesi precedenti e che faremo molto meglio nei prossimi mesi sapete grazie a cosa a quello che sta avvenendo in questi giorni alla trasformazione della nostra azienda ed è quello che devi fare anche tu fermati stai tranquillo e inizia a pensare a come sfruttare al meglio questi momenti ti faccio un altro esempio sempre pratico alina la mia dolce metà ha lanciato proprio nei giorni scorsi un videocorso online e in maniera molto responsabile ha deciso comunque di sospendere tutte le lezioni fisiche il che vuol dire ovviamente rinunciare a comunque tanti soldi tutto questo a favore delle proprie allieve perché non ci dimentichiamo che dobbiamo sempre guardare l'interesse degli allieve l'interesse dei nostri clienti ed è inutile aspettare che siano loro così come anche i dipendenti a chiederci delle cose che ovviamente già sappiamo perché sappiamo che è un problema dobbiamo solo affrontarlo con forza determinazione e ovviamente ottimismo perché siamo qui per poi avere dei risultati molto più grandi da qui a qualche mese come ti dicevo ha lanciato il videocorso online ha sospeso le lezioni fisiche ma ha deciso guardando da qui a tre sei mesi che nella prossima settimana nelle prossime due settimane si concentrerà al 101 per cento cosa incredibilmente che non sarebbe riuscita a fare se le cose andavano normalmente nella traduzione del videocorso in spagnolo ed in inglese per dire grande problema in questo momento perderemo dei soldi in questo momento ovviamente non potremo portare i risultati che vogliamo ai nostri clienti e nel suo caso alle allieve ma ci stiamo preoccupando di sfruttare nel modo migliore questo momento cosa fare calma inizia a ragionare come nel modo più semplice cercare di alleggerire ed uscire da quelli che sono dei modi di pensare che fino a ieri erano normali nel nostro caso come società abbiamo immaginato immediatamente a spostare il tutto sul telelavoro stiamo facendo uno sforzo incredibile perché stiamo veramente cercando di spostare il 90 per cento del lavoro sul telelavoro beh ti posso assicurare di una cosa ne sono certo che dopo questo momento difficilissimo sicuramente da qui a due mesi ci ritroveremo un'altra azienda che sarà proiettata al futuro e non sarà ferma a quello che è stato il nostro modo di lavorare negli ultimi mesi e negli ultimi anni come sta succedendo per Alina che sta facendo la stessa cosa e come sta succedendo per Giovanni con la sua Funnel Business Angels che in questo momento si sta prestando come operatore perché anche lui con la Funnel Business Angels sta lanciando dei corsi online perché stiamo andando sull'online e questo è un aspetto importante perché ovviamente sempre di più le persone specialmente in questi momenti inizieranno a capire come esattamente quello che è successo in Cina che dovranno iniziare a consumare sempre di più prodotti digitali sempre di più lo streaming sta già succedendo lo ha fatto Armani con le sfilate le partite di calcio non ci saranno saranno a porte chiuse le potremo solo vedere in televisione passeremo magari qualche ora più a casa avremo bisogno comunque di continuare la nostra socialità e comunque magari di continuare ad avere dei contenuti che ci possono permettere di crescere e di migliorarci il consiglio calma tranquillo inizia a ragionare come far lavorare le persone attorno a te nel tele lavoro e come iniziare tu direttamente a dare dei servizi online perché questo ti permetterà specialmente in questo periodo ad aumentare le persone che potrai raggiungere ho voluto fare questo video perché qui a Milano è davvero una cosa sentitissima ma volevo dare un minimo di ottimismo un minimo di realismo ed un minimo di opportunismo trasforma questo problema in una opportunità spero di esserti stato utile e mi raccomando all'interno giù nel video ti lascerò anche un link per entrare nel gruppo da professionista ad imprenditore di successo dove trattiamo tantissimi temi tra cui anche questo e ti preannuncio sempre perché mi piace essere coerente che a brevissimo siamo per lanciare un video corso da professionista ad imprenditore di successo questo perché tante persone vorranno avere più video a disposizione vorranno crescere con i video e così ci stiamo portando avanti fai come me cerca di trasformare questo problema in una opportunità ciao